Ciao ragazzi e amici, mi dici Marco Traus è in live con RAIN ON YOUR PARAIN Allora, appena vedo se la live sta andando in questo gioco fichissimo A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! Sì che sto provando questo gioco fichissimo, siamo già in live Ho fatto un pezzettino prima ragazzi vi faccio vedere allora bisogna lavare tutti quanti noi siamo l'acqua e abbiamo lavato i purtini quella lì ok secondo me inizia a essere un po' più difficile noi siamo l'acqua si ok e abbiamo fatto tutto guardiamo anche la quantità di acqua l'acqua non si spreca mai ma bisogna proteggere la bomba eh non si è vero è vero 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 faccio non lo so ooooh raga ooooh infatti metti qui la bomba e che cos'è che è? vediamo un attimo allora bagna tutti gli umani a voi no c'è solo la passata ok non abbiamo preso il sole e abbiamo bagnato tutti 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 è vero perchè la gente non vuole bagnarsi con la pioggia vediamo questo no go 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 help allora grow a beautiful garden qui sarà di studi for not as a human soccolo soccolo no 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 allora vediamo un attimo allora ok allora spagna e giardino 1 gli umani soccolo soccolo voleva l'acqua ma qui si riempie è vero ci riempie lì no però riproviamo però anche l'attenzione voi ciao no 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 bravo l'ultimo che bello ora un cappello per la nostra nuvola e poi tra l'altro ci aveva la faccina sorvidente l'ho modificata e si non lo so l'ho modificato prima e gli ho tolto la faccia che anche Sambi Sambi Storia qua non è proprio interessante Allora Allora vai Dobbiamo svegliare le maestre che dormono No No Eccolo quello credo Baccala roba Baccala 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 Sambi Baccala No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Allora insegui i ragazzi d'arte in classe di un corridoio Eh, se magari andano tutti da fuori, magari per il corridoio sono in corridoio, dentro l'intervento è un cattile per l'intervento. Ehi, ha quegli altri, questi? Ma c'è più? Ah, questo prova, vedete, fermo. Ma come qua c'è la casa? Vasti forse? No, non si alzano, fanno la verità. No, non si alzano, fanno la verità. Basti? Ma non si alzano, fanno la verità. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Ok... Oh... Oh... E vai... Oh... 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 Oh, che vuoi? questo è difficilissimo spray facciamo un attimo, facciamo con calma, intanto non c'è il tempo io volevo fare quel gioco fare quel gioco no una bella rivettina su twitchy con la serie se e 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 x ciao mitico devo capire il giro che fanno questo va di lì no porca loca ma proprio preso stavolta questa volta va preso incredibile ciao ciao sto tutto bene tutto bene io tu come stai? è che le notifiche mi arrivano in ritardo scusate ragazzi dovrei attaccare qui il telefono a quando fa? mi ha visto o no? mi sembra che non mi hanno visto eh? ok ok Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Allora... Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Perfetto. Perfetto. Però sei grande, braaa. La grandezza di voi. Vai, fanno ancora lei. Esci. Non fare subito veloce. Eh, ma fai con calma niente. Lo so, e tu devi andare a destra e a destra. E non è sempre così. Infinito. Infinito e oltre. Va bene, ragazzi. Abbiamo fatto una bella giocatina di un'oretta. Io vi ringrazio da marcodramgameschannel su twitch. Grazie ai grandi zaniboi. Ciao a tutti. E ci vediamo subito con Crossfire. Sempre qua su Twitch. E la mitica Series X Pass Ultimate. Microsoft. The best. Ciao ragazzi. Alla prossima. Datemi bene. Medici. Il mitt congress per la faccia. Il mitt SinneА al Charfer. blogalearn palette Edgelow. Ok poi. Ve ه Connectore. Vale.